Occasione sciupata e domenica da dimenticare per il Nardò la squadra di Danucci esce sconfitta dal conte di Pozzuoli per mano di una volenterosa putiolana che nonostante l'ultimo posto in classifica vende cara la pelle e si impone 2 a 1 prestazione sotto tono dei neretini che interrompono a 4 la striscia di vittorie consecutive. Dalle prime battute si capisce subito che non è giornata per il team di Danucci si gioca quasi in una sola metà campo ed è quella Salentina ci prova Cigliano dal limite il suo destro termina alto il vantaggio dei padroni di casa arriva al minuto 28 Ruggero riceve calcia di prima intenzione dai 20 metri sfera nell'angolo lontano dove Milli non può arrivare il vantaggio galvanizza i campani che continuano a premere al 36esimo trovano il raddoppio Armeno semina il panico sulla sinistra salta due avversari e calcia tiro respinto da Milli ma sulla palla si avventa Romeo che sottoporta in sacca il 2 a 0. Nardò stordito e incapace di reagire nel finale di frazione la putiolana potrebbe ampliare il suo vantaggio il sinistro di Guarracino viene deviato in angolo da Milli il destro dai 25 metri di Armeno termina di poco a lato si va a riposo con i campani avanti 2 a 0. Nella conclusione da distanza siderale ma non c'entra di poco il bersaglio poi è il neo entrato Celiento dopo una bella incursione sulla sinistra ad impegnare l'estremo Neretino campani pericolosi anche su corner il colpo di testa di Granata termina non lontano dalla porta di Milli a metà frazione tiro a giro di Romeo da quasi 30 metri sfera di pochissimo a lato poi nuova occasione per i padroni di casa con la punizione calciata dal limite da Celiento sfera che sfiora il palo alla destra di Milli all'ottantaduesimo finalmente il Nardò si fa vedere in avanti ed accorcia le distanze con Caputo bravo a trovare anche la fortuita deviazione di un difensore campano nel finale però i timidi assalti Neretini non sortiscono nessun effetto finisce con la festa della putiolana che abbandona l'ultima piazza sconfitta amara per il Nardò che dovrà necessariamente ripartire dalla sfida interna di domenica prossima contro la Versa Grazie Grazie